Cosa devi fare? Cambiare il filo, cambiare il filo, cambiare il filo, aspetta il rocciario che è aperto, hai visto averlo troppo grosso, invece se non ce l'hai non succede niente, io sono nella media inferiore, io sono nella media ma quella inferiore, e va bene, l'importante è semplice, ogni giro si sente stamp, stamp, è la cinta che sta partendo se no, quando si rotta la cinta, se la già si riscorta. Vai, vai, c'è nessuno. Cortello! un po' eh? aspetta un po' dovrebbe girare il contratto si no no qua lo per l'uovo e ma non è finita da lì? si si lo fai girare poi ci noto male e c'è dentro un sasso dentro nella catena ti ho detto che c'ho un problema che parte quel testo di c***o è venuto qua apposta inchia taglia basta? si la vaffa al culo c'è lì la forbice non c'è più l'han già rubata era qua adesso ma che c***o prendilo il gusto fermo ma tutto a me mi capitano il sasso nella catena la palta nel tubo della moto eh ascoltate eh adesso vada besta eh vedi che non lo fa più e ma io che capito so non lo fa più ma io non so se un pezzo di legge se è incappato dentro la schiacciata non va niente se lo faccio tutto su 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 qui è rifatto manutenzione eh ah se lo faccio dentro lì se l'hai fatta? non va se lo faccio dentro se lo faccio dentro oh anche di là ce n'è un'altra vai bravo ce l'abbiamo fatta questa è quella giusta questa non è più buona la molla troppo la molla la molla la molla la molla non è che non ce l'aveva hai detto basta la devi doppiarlo no oh se ho tornato il paulino mi ha fatto tagliare tutte le bracche che pendevano giunta vai 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 mi ha pensato che sta strano vai oh tutto pieno eh piccica c'è ancora il girone contrasto bravo si mi sembra tutta del cifo però è tutta qua non è bravo 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 non è dritto non è bravo ma li assingiamo comunque ah li assingiamo dunque ma li attivano nuove a posto? a posto? pesciù piccola perciò diavolo taglia la testa quella a posto